Nuovo schiaffo del Governo del Parlamento alle vittime dell'alluvione del 18 novembre scorso che ha devastato la Sardegna centro-orientale. Non usa giri di parole la Confindustria della Sardegna Centrale per segnalare il fatto che mentre si stanziano risorse per gli alluvionati di altre regioni, vedi la Liguria e l'Emilia Romagna, si lasciano prestare dalle famiglie e le imprese della Sardegna devastate dal ciclone Cleopatra. In una nota il Presidente dell'Associazione, Roberto Borgnoli, si associa alla forte denuncia fatta dall'On. Roberto Capelli che ha richiamato l'attenzione sull'ennesima beffa ai danni del centro Sardegna. Borgnoli sottolinea come lo Stato ancora una volta ha usi due pesi e due misure. Un fatto inaccettabile rileva il massimo dirigente della Confindustria perché i fondi per i risarcimento alle imprese e alle famiglie sarde restano bloccati per mesi. Lo stop della Commissione bilancio al provvedimento che dovrebbe assegnare gli indennizi per l'alluvione del 2013, sottolinea Borgnoli, arriva dopo numerosi precedenti retromarce da parte di Camera e Senato. Il Presidente Borgnoli ricorda che nel centro Sardegna l'alluvione del 18 novembre ha devastato un tessuto produttivo e un sistema infrastrutturale già debolissimi. La provincia di Nuo è poi quella che ha subito i danni maggiori alla rete viaria. Tantissime aziende, ricorda Borgnoli, sono state devastate dalla furia delle acque, riportando danni ingenti ai macchinari e agli stabilimenti. A fronte dell'importante solidarietà arrivata dai privati, continua la nota, nessun aiuto nonostante le tante promesse, è invece arrivato ancora dallo Stato. Perché se qualcosa si sta muovendo sul fronte delle infrastrutture viarie, conclude Borgnoli, niente è stato fatto dal punto di vista dei risarcimento alle imprese e alle famiglie. Grazie. Grazie.